Una storia inizia pulita e inizia a colori. Si legge così sulla locandina dell'iniziativa Ponte Lindo a Ponte Felcino di Perugia, una grande festa con la quale domenica si è presentata ufficialmente la neonata consulta delle associazioni del territorio. Si è cominciato con la pulitura dei luoghi simbolo della zona per poi continuare al Molino della Torre e della Catasta con un pranzo sociale, gli stand delle associazioni e una mostra di manufatti ceramici realizzata con alcuni ragazzi richiedenti asilo dell'ostello Villa Giardino di Ponte Felcino. Nel pomeriggio il presidente Pasquale Caracciolo ha presentato lo scopo e gli obiettivi della consulta nata per migliorare la vita e l'integrazione e offrire occasioni di confronto per risolvere insieme i diversi problemi del quartiere. Tra gli obiettivi la gestione della compresenza di culture e religioni diverse a Ponte Felcino su 8.000 residenti, circa 2.000 sono stranieri. La creazione di un patto educativo per i giovani in età scolare nato dall'esigenza di esperienze di condivisione nei gruppi parrocchiali, negli scout, nelle associazioni, nei servizi di ambito civile, la riscoperta del piacere di ritrovarsi negli spazi pubblici dei quali i cittadini devono riappropriarsi e la capacità di far fronte comune verso le istituzioni.